Sarà una partita ricca di sfide personali Sarà Palvarini contro Mantegazza Sarà Checchi contro Rebuscini Sarà Faiella contro Bertocchi Tante le sfide ma soprattutto sarà MC Elite contro AMLEA Sbaglia l'appoggio, c'è Savino, messo bene, Di Davide Guarda sul mancino, lo esplode, Di Davide, inglese Che se l'ha conquistata la batterà lui Ma che, chi importa? Decolla il tiro Sbaglia, c'è Bertocchi, tutto solo Bertocchi Calcia a lui Bertocchi Fa 1-0 col piazzato Col solito momento Brevilinio Cervelli, arriva a palla, Cervelli, Cervelli Salta in inglese, Cervelli La deposita, facile facile Cervelli, inglese Palla sbagliata di Davide, intercetta Bertocchi, tutto solo, Bertocchi Lui punisce sempre Errore di inglese Verticale su Faiella, stavolta la sfida è con Rossi Toccato duro Checchi lotta, Checchi passa Con la suona Checchi Un lampo assoluto di Checchi Calabrese Con l'esterno Cercare Checchi Rebuscini ha capito tutto Parte contro Biede Con il tocco di Santo Buono Per Bertocchi Bertocchi Di prima In girata Attenzione a Mantegazza Che ha spazio Può che calciare Tocco bellissimo per Rebuscini Gol di Rebuscini Bello il dribbling Qui di Faiella Che passa Faiella Gol d'autore Faiella Cerchio di centrocampo Prova lui col mancino Calabrese Palla che batte davanti Amigliorin Batte sulla traversa E' un gol fantasma Ma per l'arbitro E' dentro Entra dentro il campo Mattia e Santo Buono Bertocchi Col destro Bella la palla per Raffaiella La stoppa Si mette davanti A Savino Faiella Calcia Migliorino Riflesso Checchi Sono ribattuto Avanti Cazza Bello il numero di Santo Buono Che all'orga per Di Davide Tutto solo Di Davide Buca d'angolo Verticale su Di Davide Tutto solo Di Davide Tocco morbido Come un giro altissimi sulla linea Ancora occasione per Di Davide E calciare lì Bertocchi Tutto solo Bertocchi Si gira molto bene su altissimi Gioco di suola Bertocchi La protegge lui Scarico per Savino Palla sul destro Savino Adesso è 9 a 3 Di Bertocchi Fischia tre volte l'arbitro Prova D'autorità assoluta Per la MLEA Che si pone Contro MC Elite Il commento del match È affidato alle parole dei capitani Partiamo Dal capitano di MC Elite Faiella Un passivo pesante Questa sera Da dove si può ripartire? Dalla voglia di migliorare Perché stasera Sono stati superiori loro Sia fisicamente Che Come gioco di squadra La scorsa settimana Abbiamo perso due punti Che meritavamo Oggi Abbiamo meritato di perdere E la prossima volta Dobbiamo far meglio Invece a Capitan Mantegazza Chiediamo Dove può arrivare Questa squadra In virtù di questa Prova Da autorità assoluta Contro Una diretta concorrente No Abbiamo fatto bene Oggi Tutti quanti C'erano giocatori nuovi Berto davanti Ha fatto benissimo Cerchiamo di fare Il meglio possibile Vediamo Dove riusciamo a arrivare Noi puntiamo sempre in alto Grazie 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 Grazie